Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi considerazione sulla nostalgia. Ormai siamo in un periodo un po' di limbo, a metà. Stiamo attendendo che la campagna vaccinale prosegua nella maniera più celere possibile con le evidenti difficoltà che constatiamo ogni giorno, però bisogna essere fiduciosi a mio parere e avere forza, almeno noi giovani per continuare a sperare in meglio, anche perché tra settembre e dicembre dovremmo raggiungere, per quanto ho letto, l'immunità di Greggio in qualche modo, quindi comunque l'80% della campagna vaccinale dovrebbe essere completa e quindi si potrebbe tornare a una parziale nuova normalità, mettiamola così. Però sicuramente in questo periodo con questi lockdown prolungati, zone rosse, arancioni rinforzate eccetera, credo che la nostalgia abbia giocato un ruolo importante perché io personalmente ogni tanto mi sono perso nei ricordi di un qualche evento che ho vissuto, di un qualche periodo della mia vita, magari ripercorrendo foto, momenti particolari con amici, famiglia, oppure la nostalgia quella legata ai film, alle grandi serie tv, ho letto molto anche che tantissime persone optano per fare i rewatch di tante serie, di tante vecchie serie, non fa per me questa tipologia di intrattenimento perché comunque io quando una cosa la finisco di vedere la tengo lì, cioè deve essere veramente particolarmente bella ed efficace per farmici ritornare sopra, che sia un libro o per l'appunto una serie tv. Però ecco, mai come in questo periodo rimpiangiamo i tempi andati e mai come in questo periodo forse per una volta la frase è si stava meglio quando si stava peggio non poteva essere insomma così tanto azzeccata. E spero, oddio, spero di aver fatto bene il periodo. Madonna, mi sono incadricchiato. Comunque, no, dico, se stava meglio quando si stava peggio, stavolta forse torna, serve. Però ecco, non ancoriamoci troppo al passato che fa male. Cerchiamo sempre di guardare avanti e di innovarci. Spero che vi sia piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima.